Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su Arduino In questo video vedremo come utilizzare questo strumento qui che è chiamato anche Nunchuck è un telecomando che fa parte del set dei telecomandi per la Wii che ci permette appunto di essere utilizzato insieme all'Arduino noi possiamo utilizzarlo per un sacco di cose per esempio per muovere un servomotore oppure potremo utilizzare i suoi due pulsanti per mandare dei segnali o cose del genere quindi imparare come utilizzare uno strumento così comodo perché vedete ha già due pulsanti inseriti questa rotellina che in realtà è un accelerometro a tre assi quindi ci permette di avere dei valori sia sull'asse X sia sull'asse Y che sull'asse Z inoltre al suo interno quando lo muoviamo lui è capace di dirci la sua oscillazione sia sull'asse orizzontale se lo muovo così sia sull'asse verticale se lo muovo in avanti o indietro quindi diciamo uno strumento molto utile e molto compatto che se integrato con il nostro Arduino ci permette di fare un sacco di cose come vedete integrarlo è abbastanza facile basta mettergli i cavetti nell'ordine giusto qui quindi nella parte che dovrebbe essere inserita nel telecomando Wii e ovviamente collegare i cavetti al nostro Arduino ora li vado a smontare perché così vediamo bene bene come si rimonta tutto allora intanto dobbiamo dire che non so se voi lo vedete bene io cerco di farvelo vedere il meglio possibile prendo un attimo una penna allora questo qui è l'ingresso del nostro Nunchuck è diviso in sei parti ok quindi ci sono in realtà sei pin qua dentro sono molto piccoli quindi non so se si vedono bene comunque quello che ci interessa è che sono due file da tre quindi questa è la prima fila e questa è la seconda fila una sotto e una sopra che hanno tre buchi ciascuna quello centrale non serve a niente quindi sta lì soltanto perché c'è noi non andremo a collegare niente infatti se vedete io avevo soltanto quattro cavetti collegati dopodiché quello in alto a sinistra quindi questo qua è il segnale di clock quindi il segnale che regola tutto quanto tutto ciò che avviene nel Nunchuck quello al centro abbiamo detto è vuoto quello in alto a destra è la GND quindi una comunissima ground dove andremo a collegare la nostra GND dell'arduino, della basetta, di quello che volete voi nella fila di sotto invece abbiamo in basso a sinistra la corrente in entrata che per il nostro Nunchuck sarà di 3,3 volt e voi dite come facciamo a dare 3,3 volt? beh il nostro arduino guarda caso vicino all'entrata di 5 volt ce ne ha un'altra che dice 3,3 volt quindi diciamo che ci va proprio a fortuna e noi possiamo integrarlo tranquillamente quello centrale della seconda fila abbiamo detto che è vuoto mentre l'ultimo pin rimasto che è quello in basso a destra è quello per i dati quindi conclusione andremo a collegare due cavetti per gli analogici uno in alto a sinistra e uno in basso a destra dopodiché in alto a destra ci va la GND e in basso a sinistra la corrente in entrata quindi dove ci va la corrente in basso a sinistra cavetto rosso voilà state attenti a metterlo esattamente nel buco perché sono molto piccoli e si confondono facilmente quindi questo qui io cerco di avvicinare al massimo per farvi vedere questo qui è il terzo buco in basso a sinistra dal lato opposto quindi in alto a destra ci mettiamo la GND dove sta? ok beccato mentre negli altri due pin che rimangono quindi in alto a sinistra e in basso a destra andiamo a mettere i cavetti gialli che saranno per i segnali analogici perfetto un attimo ok ci siamo benissimo a questo punto non ci resta che collegare tutto quanto al nostro Arduino ho preso lo stesso diciamo progetto dei video precedenti ho staccato soltanto il potenziometro ma ho lasciato tutto il resto così come stava quindi il servomotore è sempre collegato con il cavo rossa ai 5V col giallo al pin 9 PWM e con il nero alla GND e ho lasciato sul pin cos'è questo? il 10 sul 13 il led con il suo resistor quindi andiamo a mettere adesso aspettate un attimo che forse ho sbagliato un collegamento no eh sì forse è questo qua ok avevo sbagliato un collegamento analogico del potenziometro quindi vi stavo eh non del potenziometro del Nunchak quindi vi stavo dicendo adesso andiamo a mettere il cavo rosso sui 3,3V così dopodiché quello dei dati cioè il cavetto giallo vicino al cavo rosso lo andiamo a mettere sul pin analogico 4 di quelli analogici l'altro giallo lo mettiamo sull'analogico 5 mentre il cavetto nero lo colleghiamo a una qualsiasi GND io ce le ho tutte su questa fila quindi lo collego qua benissimo a questo punto il nostro potenziometro eh dal potenziometro scusate il nostro Nunchak è collegato al nostro Arduino ovviamente non ci resta che andare a programmare il tutto quello che faremo noi sarà far muovere il potenziometro ogni volta che gireremo la rotellina quindi la rotellina ci dirà a che punto a che angolazione deve girare il nostro potenziometro occhio però che per fare questo eh in realtà ci sarebbe un procedimento complicatissimo che però eh ci viene semplificato da una bellissima libreria che è fatta apposta per il Nunchak io vi darò nel video precedente o magari anche nella descrizione di questo video quindi controllatela ehm la libreria che io stesso ho modificato perché ho aggiunto un paio di funzioni per i pulsanti quindi andremo a vedere anche come far funzionare i pulsanti magari uno per accendere l'altro per spegnere il nostro led ok ragazzi direi che per questo video è tutto ci possiamo fermare qui e continuiamo nel prossimo con la parte della programmazione a dopo